20 panetti di hashish per un peso complessivo di 2 kg sono stati trovati e sequestrati a pochi passi da una scuola. È successo a Montevarchi. I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valderno, nell'ambito di un più ampio servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono riusciti a scovare un insospettabile nascondiglio utilizzato dai pusher per nascondere lo stupefacente. Gli spacciatori utilizzavano infatti un'aiuola che si trova all'esterno di un edificio scolastico come nascondiglio della droga, sicuri che nessuno l'avrebbe ritrovata, mettendo però in pericolo i giovani allunni di quell'istituto. Lo stupefacente del mercato avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Adesso i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari della sostanza stupefacente. I militari continueranno anche ad effettuare specifici controlli antidroga, soprattutto in prossimità delle scuole.